Ciao amici di Italia Top Games, buon inizio di settimana, lunedì 6 aprile è la settimana che ci porterà alla Pasqua una Pasqua un po' diversa quest'anno, però se la vi mi raccomando restate a casa allora state vedendo i giocatori in evidenza che come ben sapevamo già sono i giocatori di Juve e Milan poi li vediamo in dettaglio subito dopo e vedremo le nuove challenge questa settimana ci sono tutte novità legate alla serie A intanto ho preso le mie 40 monete che non mi dispiace affatto prenderle allora, pool da collezione, pool della serie A vediamo un po' profilo, le solite percentuali, 30, 90, 180 Ronaldo, Chiellini, Godin, Pjanic, Immobile, Dybala, Skriniar, Dzeko, Lukaku, Szczesny, Insigne, Milinkovic, Savic e giù a scendere tutti i giocatori che giocano in serie A come potete vedere l'unico giocatore sopra il 90 è Cristiano Ronaldo ne ho già due in evidenza e direi che mi possono bastare andiamo poi a vedere gli agenti speciali cominciamo dal Milan eccole qua 100% palle nere allora, il migliore è Donnarumma unico, pari o superiore a 90 dell'8 allora, eccolo qui come potete vedere comportamento PT 95 prese a PT 97 riflessi 99 estensione PT 96 direi assolutamente niente male subito sotto c'è uno Zlatan Ibrahimovic a 89 Romagnoli 89 giocatore che già ho Kier 88 Rebic 88 seconda punta c'è la Noglu 88 un'ESA che si 88 resistenza addirittura 95 Hernandez 86 velocità e accelerazioni pazzesche e basta andiamo a vedere i giocatori della Juve c'è un Cristiano Ronaldo a 96 con 18 livelli di crescita niente male però ne ho già due di Cristiano Ronaldo possono bastare Scesni 91 niente male anche lui Delict 91 44 livelli di crescita niente male c'è già un altro in evidenza sta a 96 ancora vari livelli di crescita Higuain 90 Alexandro 90 parte da 90 niente male neppure lui neppure lui Rabbio 90 Matuidi 89 e quadrato 89 allora io faccio un paio di cili della Juve perché non tanto per Ronaldo che ripeto già ne ho due non tanto per Scesni che di portieri ne ho tanti perché mi piacerebbe prendere Delict per appunto renderlo ESP e farmi crescere quello che già ho oppure Alexandro oppure 90 come terzino di sinistra non mi dispiace o anche quadrato che anche lui già ho per renderlo appunto un preparatore ESP quindi proviamo un po' a girare due volte la Juve e vediamo che succede al massimo mi farò la tripletta di Cristiani Ronaldi e vediamo un po' che succede allora tanto in Italia è palle nere lo sappiamo vediamo un po' di chi si tratta se questo è il Rabbio eccolo qui si Rabbio allora CC 90 e a me a tarlo via sinceramente mica mi va tanto perché comunque un CC 90 con un ottimo direi io intanto me lo tengo fatemi sapere se anche voi avete il Rabbio e se cosa mi dite di questo giocatore che con la Juve nel campionato ha fatto poco però è un'altra cosa altro giro io vorrei tanto delict perché se no a farlo crescere di ESP sono dei livelli pazzeschi è un po' che mi è capitato no questo è quadrato va bene va benissimo anche lui mi cresce parecchio con un suo o un altro versione in evidenza quindi va bene due pescate discrete via a posto intanto me lo metto in squadra poi dopo vedo chi mi conviene girare come ESP o meno bene che abbiamo fatto tutto andiamo un po' a vedere le challenge sfide di oggi coppa challenge online allora qui sono tornate le trainer challenge vediamo un po' uno contro uno vince la partita singola preparatore di posizioni proprio anche no ecco vabbè giocatori bonus squadra io non ce ne ho tre perché ne ho presi due però proprio premi preparatore di posizioni proprio non so voi ma a me servono sostanzialmente come il due di coppe quando comanda spade a briscola un po' questa citazione dotta non ho altro da dire dettagli della competizione qui saranno i soliti 5000 GP vediamo se mi sbaglio no no beh cosa dire ragazzi bene i giocatori in evidenza di Juve Milan male le solite challenge che davvero Konami potrebbe un po' più variegare ok siamo ad aprile e questo è sicuro però decisamente un po' più di varietà nei premi e nella tipologia delle challenge quest'anno si poteva fare e l'ho detto tutto l'anno questo è poco ma sicuro comunque sicuramente per tanti tifosi juventini e milanisti e non questi due agenti in evidenza sono interessanti sapete vi dico mi faccio anche un giro di pool tanto per vedere che succede tanto c'è una abbastanza di GP in questo momento vediamo un po' tanto andiamo in Italia bene e vediamo un po' capito sono ma argento addirittura giocatore della Samp gabbiadini ex napoli 78 va bene diventerà un esp come pochissimi vediamo gabbiadini santon e tolian benissimo tutti tre esp garantiti benissimo allora per oggi è tutto amici italia top games abbiamo finito la pass feedback zone presto i risultati questa settimana non c'è il tg tech il 9 aprile ma torniamo il 16 con un altro premio bellissimo del playstation 4 ci rivediamo giovedì con pass con gli aggiornamenti may club ma prima anche con altro e lo vedrete presto grazie per l'attenzione buon pass a tutti restate a casa ciao grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione